È stato un ponte di ferragosto fondamentalmente senza scossoni, quello appena trascorso nel Nuorese, anche se sono emerse situazioni critiche che hanno coinvolto alcuni giovani nei luoghi di aggregazione. A farlo sapere il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, che nei giorni clou dell'estate ha messo in azione 280 militari per oltre 120 veicoli, distribuendoli su tutto il territorio provinciale per pattugliare strade e campagne, controllare decine di luoghi di aggregazione e vigilare sulle tante fiere e sagre che caratterizzano ovunque i giorni del ferragosto. I risultati sulla strada sono stati incoraggianti, pochissime le infrazioni riscontrate dagli oltre 250 posti di controllo, in cui i carabinieri hanno controllato e spezionato 650 veicoli e un migliaio di persone. Le vere criticità sono emerse dai controlli svolti presso i luoghi di aggregazione giovanile, con oltre 20 perquisizioni e quasi 200 grammi di stupefacente sequestrato, otto persone sono state denunciate in stato di libertà e altrettante sono state segnalate alla prefettura. L'episodio più grave si è verificato la notte di ferragosto nei parcheggi di una discoteca di San Teodoro, dove un giovane è stato colto a spacciare. Perquisita la sua abitazione, i carabinieri hanno trovato 53 grammi di cocaina, 8 di hashish e 6 di marijuana e oltre 1000 euro. Il ragazzo, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Nuro, è stato posto agli arresti domiciliari. Grazie a tutti.